sono in italia da cinque anni dal 2018 2019 sono venuta proprio per studiare ho fatto l'università di Genova e lì mi sono laureata in Cinzia Internazionale Diplomatiche la mia agenzia fornisce assistenza emigratoria per gli stranieri che intendono di rinnovare oppure chiedere permessi di soggiorno per poter soggiornare e lavorare regolarmente in Italia e anche per le pratiche di cittadinanza l'idea nasce dalla mia esperienza personale quando ho dovuto fare la conversione del permesso da motivi di studio al lavoro sono andata a cercare e ho trovato una marea di condizioni e requisiti da rispettare per poter fare la conversione e quindi ho capito lì che c'è proprio una vera difficoltà a raccogliere informazioni e i documenti per fare la pratica come si deve da un'esperienza di pratica personale l'ho portata a un'esperienza professionale Tra gli ostacoli che ho riscontrato all'inizio era capire come avviare l'attività e in modo giusto per questo mi sono appoggiata alla Camera di Commercio che mi ha indicato questo progetto il progetto Futurie mi ha aiutato dal punto di vista amministrativo mi ha dato le linee guida per poter avviare l'attività in modo più corretto per quanto riguarda la cosa che mi è piaciuto del progetto Futurie erano le ore personalizzate di assistenza personalizzata perché quando l'ho avviata, quando ho avviato l'attività sono passata dalla teoria alla pratica Tra i miei progetti futuri è avviare un'agenzia di consulenza fiscale e migratoria totalmente online passare da un'agenzia offline a una online per renderla più accessibile ai nuovi assistiti Grazie a tutti i miei progetti futuri